ciao ragazzi sono roberto di gamer news ed oggi parliamo e giochiamo a ghost blade hd che di you cast game che è uno sparatutto vecchia maniera che se non ricordo male uscì per dreamcast ed è quindi stato riportato per le console hd hd per xbox one playstation 4 noi lo stiamo giocando su xbox one è la prima partita anche per me quindi completamente un hands on vi ricordo che la recensione che leggete che se volete leggere trovate nella scheda o nella descrizione viene stilata dopo che abbiamo provato il gioco in maniera approfondita ok prima scelta quale donzella decisamente gnocca ci accompagna la nostra avventura io propenderei per la centrale e facciamo normal non addentriamo ce ne abbiamo recensiti parecchi di sparatutto poi magari nel corso della recensione ne parliamo signori siamo morti non mi sono nemmeno reso conto di cosa è successo rispetto a tutto quello che abbiamo visto nello scorso anno di sparatutto questo è decisamente più frenetico forse è meglio fare easy per fare vedere qualcosa in più ragazzi è cioè adesso viene mentre abbiamo recensito solo shifter x abbiamo recensito un sacco di altri giochi ma nessuno era così frenetico è effettivamente un porting da saturn questo è molto giapponesante ed è molto incredibile cazzo ragazzi non si vede quasi cosa c'è a video tra altre cose da notare la scelta di mantenere solo urca solo il centrale dei solo schermo centrale non è stato non c'è stato nessun adattamento in 16 noni continuo a essere verticali in un avuto mondo non ho avuto modo di provare la versione per dreamcast quindi inutile cazzo inutile chiedere continua e continua e si dai inutile chiedere dei paragoni con la versione originale ma minchia cioè è veramente impressionante graficamente fa paura a schermo ci sono milioni di oggetti e noi sti cazzi cioè warning mi sa che ci abbiamo il boss e mi sa di sì o strega allora forse è meglio anche fare una cosa appena abbiamo finito questa partita che si vinca o che si perda ok ecco siamo abbiamo perso volevo vedere se c'è un modo per vedere i comandi ok vediamo un po perché ho con l'impressione che customize control focus e bombo ok perfetto con x abbiamo il focus che credo che sia un allentamento può essere e combi la bomba quindi potremmo usarla in effetti sotto possa cambiare anche wallpaper è questo diciamo che ci distrarrebbe un po di più a vabbè da mettere un golpe perché ci distrae era quello di prima questo game possiamo cambiare lui di normale ok così più vicino e anche le esplosioni ma lasciamo tutto come a primo momento ragazzi presumo minchia oh sta bombazza qua ci stavo proprio è un po con l'x a con l'x perfetto no no con l'x non fa non rallenta niente con l'x semplicemente concentra il fuoco quindi concentra il nostro sparo che invece sarebbe altrimenti ah dai cazzo voglio farlo fuori credito che bello se legge la parola credito tra tre cose forse eccolo qua facciamo una cosa cambiamo i controlli perché in effetti mi piacerebbe mettere il focus ok su rt che è molto più comodo e invece la bomba io lo metterei su lt ok così con rt teniamo premuto e con a spariamo e con con lt facciamo la bomba oppure potremmo fare focus ancora meglio focus lt e bomba facciamola b e shot facciamola ok perfetto è la rt così forse per andare ancora meglio vediamo un po ok non l'abbiamo fatto fuori wow mega score e passiamo a livello successivo minchia ragazzi adesso bene abbiamo fatto fuori praticamente tutto la prima partita sti cazzi nel senso che viene proprio da dire così proprio da dire sti cazzi ok quando concentriamo il fuoco quando concentriamo il fuoco ci hanno anche fatto fuori quando concentriamo il fuoco rallentiamo anche quindi bisogna sempre tenere in considerazione anche questa cosa adesso sto prendendo power up stellino non so esattamente che cazzo sto raccattando nemmeno io raffanbrodo ci hanno fatto fuori è difficilissimo riuscire a seguire tutto quello che c'è a video c'è da dire che ok devo dire che le bombe aiutano parecchio a liberarsi dai nemici in generale niente ecco esattamente come dicevo prima è davvero un gioco pro nel senso che rispetto tutto il resto che abbiamo visto è proprio un altro pianeta sembrano proprio quei giochi da da sala giochi dove ti sparavi dentro le monetine e lo scopo di tutto era fare il fenomeno con gli amici e soprattutto farò diventare ricco il proprietario della sala giochi e con questo genere di giochi ci si riusciva anche perché quando cominciano ad arrivarti giù tonnellate di di colpi che non riesce capire neanche da dove cazzo arrivano come porca puttana fai scusate ragazzi il linguaggio ma beh insomma c'è di una cosa è divertente molto complesso ma divertente siamo morti ancora bene affitto dire molto complesso perché abbiamo sparato un'altra bombazza wow raga cazzo ci hanno colpito continui dall'ultimo credito dopo di che finiremo il viglio anche noi vabbè parliamo facciamo due parole tecnicamente così proprio di di roba a prima vista anche se giocare e parlare e considerando che non non so non ho scritto nulla nel senso di tutto improvvisato è veramente un casino ragazzi potete dirlo anche voi le animazioni sono molto fluide la grafica è veramente figa la crono sonora aiuta a insomma a cercare a questa frenesia generale ok dai ci hanno colpito ancora mannaggia questa frenesia generale in generale è proprio accelerata da questa crono sonora che che proprio è bomba di bestia ecco mettiamola così ok tanto visto adesso che se facciamo fuori gli avversari alcuni dei loro proiettili diventano punti per noi mi sembra di vedere sì ok così quindi dobbiamo dobbiamo farne fuori il più possibile perché altrimenti sono delle come in questo caso ecco non ho fatto tempo a sparare la bomba game over thank you for playing see you next round ragazzi è fighissimo per chi ha qualche annetto sulle spalle ed ha passato le giornate in sala giochi questo qua è un gioco che potrebbe fare molto 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 al caso loro eccolo qua adesso mettiamo ccbook e giurata mi interessa ok cd vabbè primo insomma vabbè primo ragazzi hanno giocato solo io tra l'altro locali normal prima partita va bene vediamo il training mode forse come a partire da questo ok skill level normal 3 vite 3 bombe e vediamo un po che cosa succede dopo di che chiudere il video perché saremmo forse dovuto partire dal training mode piuttosto che non dal dal vero cosa non sapevamo che potevamo mettere il focus cosa che invece adesso sappiamo il training mode forse è un po' più permissivo vediamo non sapevamo nemmeno delle bombe io non ci ho mai giocato questo gioco su Dreamcast quindi fatto Dreamcast era un console che non avevo non ho mai avuto sempre desiderato ma non ho mai avuto chissà che magari un giorno di questi me la compri giusto per collezionismo su ebay o siti simili ragazzi questo focus è veramente tosto ok dai stiamo facendo nel fuori un sacco comunque ottima la scelta delle protagoniste è decisamente tutte e tre gnocche e anche l'occhio con la sua parte ecco di qui sì una cosa che mi sento molto la mancanza è un sistema che mi permette di shiftare cazzo shiftare pesantemente e rapidamente a destra e a sinistra per evitare dei proiettili anche se abbiamo visto che i proiettili una volta fatti fuori l'avversario diventano bonus per noi warning ok qua c'è ancora il boss colpito in pieno subito cazzo oh cacchio che pirla niente ragazzi il training mode in realtà è forse peggio dell'altro nel senso che ci massacrano senza pietà ed è finita con un game over e finirei anch'io con un game over nel senso che vediamo un po' cosa offre il menu prima e dopo di che chiudiamo il video vabbè un giocatore o due giocatori due giocatori in locale quindi potete giocare con i vostri amici training mode abbiamo lo score attack che credo che sia qua c'è sempre le nostre protagoniste nella recensione poi recupereremo anche i nomi delle tre protagoniste un po' discinte no io voglio tornare al menu di ah cazzo non mi ha fatto tornare al menu principale voglio tornare al menu principale per continuare a commentare il menu e dopo di che chiudere il video adesso faremo un exit exit game ok anche questi menu sono molto old style allora premiamo abbiamo lo score attack abbiamo le leaderboard che sono le classifiche che abbiamo visto prima penso meno tradotto dall'inglese non esiste traduzione in italiano quindi ho fatto un porting direttamente in inglese eccolo qua local easy ne abbiamo fatto la normal infatti cd siamo lì sopra bellissimo perché da questi giochi escono fuori questi punteggi milionari option queste invece sono interessanti perché c'è yoko yoko 90% possiamo andare al contrario questo è veramente figo se voi volete mettere il televisore avete la possibilità di girare il televisore il monitor lo vedreste così wallpaper questo è quello per cambiare vi ricordate soft slow enable che non so che sia explosion bright transparency ok qui abbiamo le impostazioni più i credit per vedere chi l'ha fatto questo giochino ghost blade hd vi ricordiamo che era di two dreams la conversione ah beh dai ok non volevo veramente vederli tutti vediamo un po' se riusciamo a schipparlo ok perfetto queste sono le nostre sempre nostre tre franciulle bellissime tra l'altro lo sfondo help and support e poi ovviamente l'utente con il quale siete loggati ragazzi io a questo punto qua vi lascio con con l'invito a mettere mi piace un commento a questo video se vi è piaciuto e magari dirci cosa ne pensate se avete avuto modo anche voi di provare ghost blade hd qual è stata la vostra impressione potete leggere la recensione che trovate linkata nella scheda o in descrizione magari seguire gameroes.it o iscrivervi al canale ragazzi ciao e alla prossima e alla prossima